Grazie, grazie, grazie a tutti, ancora non ho fatto niente, figuratevi tra un po'. No, no ragazzi, a parte tutto veramente, che cazzo lì? A parte tutto stasera veramente grandi emozioni, tanto che mi ricorda quasi una delle prime volte in cui mi sono esibita su un palco e a fine serata si è avvicinato da me un ragazzo, mi ha guardato e mi ha detto, tu fai ridere solo perché hai le tette grosse. Ora io non vi nascondo che mi sarebbe piaciuto intrattenermi con lui qualche altro minuto, no? Per indagare questo mondo fatato a metà fra la sei l'ultima e Pornhub. Che è il suo cervello, ma non l'ho fatto, non l'ho fatto, ho tagliato corto e gli ho detto se ti hanno fatto ridere le mie tette grosse dovresti vedere il mio pene! E non è mai più venuto a una serata di stand-up comedy, meno uno! Non ringraziatemi comunque, d'altronde da grandi tette derivano grandi risate, allora non avete sentito un cazzo poco fa, seguitemi però, non le faccio io le regole. Comunque questo episodio mi ha fatto riflettere su un sacco di cose, tipo tutti gli stereotipi che sono legati alle tette indipendentemente dalle dimensioni. Cioè noi cresciamo con stereotipi, ma anche frasi fatte, tipo una, famosissima, è questa. Il seno perfetto entra dentro una coppa di champagne. Ebbene con orgoglio che io stasera posso dire davanti a un pubblico che il mio entra comodamente nel cartone da sei dello sfumante del loro spin, applausi all'umiltà, bravo! Grazie. Ora questa cosa è un problema però, questo è un problema, vi ringrazio per l'entusiasmo, però è un problema, cioè che attirano un po' troppo l'attenzione. Cioè io non posso fare cose basilari, tipo che so, spaventarmi. Vi ho destabilizzato. Dovreste vedere il mio pane! No, non stasera. Sono timida. No, comunque veramente, cioè il riassunto della mia vita è tipo questo. Io sto camminando in mezzo alla strada, ogni tanto magari io ho una maglietta un po' più scollata e nove volte su dieci mi ferma lui, minchia il simpaticone. Quello che mi guarda è per salutarmi e mi chiede Ehi, come state? E io magari in quel momento sono distratta, quindi lo guardo e dico ma come state chi che sono solo io? Tutte e tre. È divertente. Facciamolo con le vostre palle. Ci vuole preparazione, così. Ma assurdo, ciò aspetta. Credevo che il coglione fosse uno, invece siete tre! Ora, non sono certo qui per fare di tutte le tette un fascio. Non è mia intenzione, però io mi sono dovuta documentare, cioè mi sono chiesta ma perché alcuni uomini sono fissati con le tette? E ho visto che c'è uno studio. Uno studio che dice che gli uomini sono fissati con le tette perché inconsciamente ricercano la sensazione dell'allattamento materno. C'hai capito? Quando un uomo ti guarda le tette sta pensando a sua madre. E questo cosa ci insegna? Care donne che come me, purtroppo, condividono la passione per il cannolo. Ero un modo per dire cazzo, grazie per avermelo chiesto. Sì, però questo cosa ci insegna? Cioè, come minimo due cose, appunto. La prima, che pensano alle madri. E la seconda, è che noi di seduzione non abbiamo capito niente. Noi spendiamo soldi in ceretta, massaggi, parrucchiere. E per conquistarli basta che gli diamo la paghetta. Che gli aiutiamo a fare i compiti. Se vogliamo fare il stesso estremo, che li inseguiamo casa per casa con uno zoccolo in mano. Grazie, un applauso alla violenza domestica. Bene, adesso io mi sono un attimo sfogata in questi minuti. Quindi, diciamo, vi ringrazio. E adesso che vi ho anche traumatizzato, con l'immagine delle mie tette, è vostra madre. Il mio compito qui è finito e ce ne possiamo andare. Tutte e tre! Grazie! 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 Grazie!